Ciao a tutti, sabato 23 alle ore 14 la Ternana affronterà il Parma a Parma con l'obiettivo di continuare a fare punti. La Ternana che viene da tre vittorie consecutive per cui l'obiettivo è quello di andare a Parma e fare punti. Ci saranno oltre 400 tifosi rosso-verdi a sostenere i nostri ragazzi ma l'avversario è veramente difficile. L'avversario è la prima della classe, in questo momento il Parma è la prima squadra in classifica in Serie B, viene da un pareggio rimediato contro il Cosenza per 0-0 per cui sarà un ottimo esame per la Ternana per valutare la sua crescita ma sarà al contempo un avversario scomodissimo perché fare punti a Parma è veramente difficile. Stiamo parlando di una squadra con i migliori giocatori della Serie B, costruita per vincere il campionato, con giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento per cui servirà ancora una volta la miglior Ternana della stagione, servirà una Ternana cinica e concreta che sfrutti al massimo ogni azione da gollo perché poi contro il Parma soprattutto pagarlo, poi puoi pagarlo caro, servirà una Ternana attenta in tutti i reparti di gioco, soprattutto al centrocampo perché i giocatori del Parma appunto non devono esprimere le loro qualità e potenzialità e servirà una Ternana attenta in difesa perché l'attacco del Parma, Bernabeu nome su tutti, può far veramente male per cui servirà una partita tecnicamente perfetta per portare a casa anche solo un pareggio che sarebbe un'impresa, sarebbe un buonissimo risultato, ovviamente la nostra corsa non è sul Parma perché il Parma punta a vincere il campionato, la Ternana punta a salvarsi ma la Serie B è pazza, la Serie B è strana, l'abbiamo visto contro il Lecco e portare a casa qualche punticino da Parma sinceramente fa morale e ci permetterebbe poi di giocare le prossime partite con molta più tranquillità, nel frattempo è aperta anche la pre vendita di Ternana Pisa, prossima sfida delle fere, quindi non ci resta altro che aspettare sabato, io vi ricordo che questa sera c'è Passione Rosso Verde su Ternana Live, quindi non ci resta altro che aspettare sabato 23 dicembre quando la Ternana andrà a Parma con l'obiettivo di fare punti, se si vince è meglio ma un pareggio ma un pareggio a Parma vale come una vittoria per me